Molte volte dico, se capite tutto quello che dico, avvisatemi perché vuol dire che sono uscito dal personaggio. Enzo per me era un padre, uno zio più importante del padre. A volte il fratello minore. Papà trassudava questa energia, a volte ambigua, divertente, magica. Quello che racconta lui, racconta tutti. E avanti anche oggi con le cose che ha fatto ieri. Spiccava proprio quella sua particolare vena ironica, amara e feroce. Per me era un mito. Enzo è stato un maestro, un artista, l'unico grande genio musicale che abbiamo avuto in Italia. No, no, no! Ma perché? Mese no! E non sa più che finiva così, amara. Grazie. 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 Grazie.